buonasera a tutti quanti ragazzi benvenuti nel mio blog video tutorial gameplay vorrei ringraziare tutti e tutte le persone che seguono il mio blog in più vorrei anche ringraziare gli iscritti al mio canale gameplays 1973 siamo quota 41 allora parliamo di notizie chi che mi segue già lo saprà allora 10 novembre mi arriverà fallout 4 ragazzi per playstation 4 io l'avrò in mattinata quindi in serata stessa già incomincerò a pubblicare le prime video guide subito dopo già come vedete guardate ho già fatto il preordine di blood ball l'espansione che uscirà il 24 io già l'ho fatta ora il preordine da quello che ho letto posso scaricare il gioco il 24 mattina detto ciò ora parliamo delle dirette streaming le dirette streaming le farò adesso su un unico canale cioè il mio canale gameplays 1973 farò tutto lì sia quando pubblicherò le mie video guide private che voi potete vedere fino ad essere pubblicate un bel po sia le dirette streaming verranno fatte lì detto ciò la prima diretta streaming io la vorrei fare su fallout 4 il 15 novembre è di domenica io pubblicherò il link chi vorrà seguirmi io parlerò del gioco dirò le mie impressioni cosa penso se voi avete domande domande da farmi io sarei felicissimo di rispondere alle vostre domande sul gioco detto ciò io farò la stessa cosa anche su bloodbord l'espansione che uscirà visto che è un'espansione piccola dura 18 ore in serata del 24 il 25 mattina già avrò finito il gioco quindi potrò fare la diretta streaming forse 25 sera però non mi voglio allargare tanto perché non so quanto sia difficile quindi vi farò sapere quindi detto ciò vi volevo informare anche un'altra cosa io ho fatto il preordine anche di dark source 3 sono stato uno dei pochi a fare la beta test di dark source solo che non sapendo se violavo qualche regola a registrarmi non volevo rischiare di bruciare il canale youtube o twitch in quel momento poi neanche era a casa mia era col mio amico che mi ha invitato e abbiamo fatto una cooperativa a casa sua di dark source 3 visto che anche lui è stato scelto per la beta test insomma io non me la sentivo di registrarmi perché avevo timore poi cercavo qualcuno a cui poter chiedere ma purtroppo su youtube non è che ci rispondono subito quindi ci sono rimasto fregato quando ho visto che già su twitch andavano in diretta streaming figuratevi su youtube quindi ora che lo so e non viola nessuna regola la prossima volta lo farò anche io ora per esempio ho fatto la richiesta per la beta test di doom non lo so se avrò scelto però io l'ho fatta è un gioco a mi piace perché spara tutto vediamo cosa succede quindi l'unica cosa che vi chiedo l'unica cortesia se volete è quella di spargere voce di darmi un po' di visibilità se volete io come ho promesso ogni mese sul canale gameplays ci sarà sempre uno o due giochi nuovi quindi significa video guide sempre fresche nuove quindi ragazzi io vi saluto vi ringrazio ai 41 iscritti che mi seguono e ci vediamo alla prossima cioè il 10 novembre ciao a tutti